Un sopralluogo da parte della Regione Toscana nelle zone maggiormente colpite dal maltempo per il territorio aretino. C'erano gli assessori regionali Federica Fratoni, Vincenzo Ceccarelli e la Presidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis. Abbiamo incontrato i cittadini, è davvero straziante il loro grido di aiuto, noi risponderemo a questo. Spero già da domani di approvare una legge regionale nel quale contemplare contributi a cittadini, a privati ma anche alle attività produttive. Poi, come ci hanno detto tanti cittadini, si chiude la stalla quando i buoi sono fuggiti. Quindi io sono stata contenta di vedere la situazione e saremo presenti come regione in tutte quelle situazioni in cui potremo. Naturalmente i danni sono moltissimi, privati cittadini ma anche l'agricoltura, piante da frutto, coltivazioni a campo aperto. La situazione è molto complessa, non solo nel Comune di Arezzo. L'averlo toccato con mano stamani, dal mio punto di vista, ci responsabilizza ancora di più a una presenza, a una vicinanza che non mancherà. Intanto il Presidente ha firmato non solo l'emergenza regionale ma la richiesta dell'emergenza nazionale e dello Stato di Calimetà che va proprio a beneficio degli agricoltori. Anche questa mattina abbiamo visto che sono tanti privati coinvolti, tante le aziende. Si tratta poi di capire se dal livello nazionale ci sarà una risposta, visto anche che questo è un episodio che non si è limitato alla Toscana ma è investito anche sicuramente in Lazio. Vediamo se ci sarà un conforto anche dal livello nazionale come spesso accade in questi eventi. Sicuramente c'è un reticolo idraulico che va revisionato, che ha bisogno di opere strutturali, che ha bisogno di interventi immediati non soltanto per essere adeguato a quelle che sono le entità e le quantità delle precipitazioni a cui purtroppo assistiamo da qualche anno ma anche alla mancanza di micromanutenzione che in passato veniva gestito dai coltivatori dei terreni che oggi in molti casi sono purtroppo incolti. Accanto a questo dovranno essere verificate eventuali responsabilità e ovviamente chi ce le ha ne dovrà rispondere. Un sopralluogo che ha dato adito anche ad una polemica politica. Ho appreso per vie informali, dice il sindaco Alessandro Ghinelli, che nelle zone colpite dall'alluvione è in corso un sopralluogo da parte dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. Ritengo che la mancata informazione ufficiale al sindaco della città colpita da un così grave evento costato addirittura la vita ad un cittadino rappresenta una vera e propria scorrettezza istituzionale. C'è stata semplicemente una comunicazione che al comune è stata fatta però stamattina quando iniziavano i sopralluoghi. Poteva unirsi a questi sopralluoghi e non utilizzare invece la comunicazione seppur tardiva fatta questa mattina per fare delle polemiche. Forse era meglio anche se il comune, anziché alzare delle polemiche, avesse fatto eseguire ordinanze di demolizione di alcuni attraversamenti che ci sono nel Sellina. Magari per quanto riguarda le casse di espansione del Sellina e del Valtina che hanno dei costi molto molto rilevanti, avesse chiesto l'inserimento nel documento di programmazione per quanto riguarda poi l'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di questo. Detto questo credo che non sia il momento delle polemiche, su questo sono d'accordo con il comunicato che ha fatto il comune. Ovviamente non siamo assolutamente noi ad averle attizzate e credo che sia il momento della collaborazione per far fronte a tutti quelli che sono i danni che purtroppo sono stati causati e soprattutto per programmare gli interventi immediati e di prospettiva che devono essere realizzati per mitigare questi fenomeni che purtroppo visti anche i cambiamenti climatici saranno comunque sempre più frequenti.